Seconda in programma, 4 anni che non vincono 12.000 euro nella carriera. Dallo steccato 1 Corvo Nero Fonte, 2 Commando, 3 Colcioneros, 4 Cimo Slide SM, 5 Cream Passion, 6 Calisse LL, 7 Chavez Zoppi. In seconda fila Caterina FC Collotto, 9 Commento Luis, 10 Cecco BF, 11 Cateder Ronco, 12 Cagliopetrio. Favori del pronostico per il numero 1 di Corvo Nero Fonte, Nino Vassallo, al totalizzatore paga 2,70. Si va per staccare, di galoppo il 7 di Chavez Zoppi, di galoppo il 6 di Calisse LL, pure il 2 di Commando e il 4 di Cimo Slide, rimane al comando Corvo Nero Fonte. Numero 4 squalificato. Ci va subito in schiena il numero 8 di Caterina FC a seguire il 9 di Commento Luis, allargo il 3 di Colcioneros. Primi 200 metri in 13,4 per Corvo Nero Fonte che è al comando e ha risolto il 80% dei problemi. In schiena c'è la Caterina FC, ancora il 9 di Commento Luis, allargo Colcioneros, prende la schiena il 10 di Cecco BF. Numero 11 squalificato. Fioccano le squalifiche, dopo 400 metri transitati nell'ordine del 30 abbondante, si vanno a percorrere i primi 600 metri in 46,6 con Corvo Nero saldamente al comando. Ripeto, numero 4 squalificato. Di fuori c'è sempre il numero 3 di Colcioneros, ancora Caterina FC, allargo il 9 di Commento Luis, 1, 2, 6, primi 800 metri. Si fa il primo passaggio davanti alle tribune con Corvo Nero saldamente al comando, allargo Colcioneros, ancora Caterina con Commento Luis. La terza pareglia la va a prendere Andrea Buzitta con Cimosled SM, 18 secchi il primo chilometro. Li sta portando tutti a spasso Corvo Nero Fonte e Nino Vassallo. Ora mette a girare un po' con la frusta Lorenzo Larrosa con il suo Colcioneros. Un altro parziale in 15,4. Colcioneros al comando, Caterina la segue come un'ombra. Ripeto, numero 4 squalificato. In schiena c'è sempre il 9 di Commento Luis. Numero 2 squalificato. Ancora il quattro decimo slide, comincia a venire via il numero 9 di Commento Luis, viene via in terza ruota, parziale in 15,5. Adesso si deve accelerare, Corvo Nero al comando, di fuori Commento Luis, trova spazio Caterina FC. Parziale, tre quarti di miglio in 13,9, 2, 2, 8 il miglio. E ora Corvo Nero è una lotta con Commento, interessata c'è Caterina FC. L'ultima curva con Corvo Nero ancora al comando, Commento di fuori, in terza ruota viene via adesso Caterina FC, che sbaglia, sbaglia Caterina FC. Al comando c'è sempre Corvo Nero con Commento Luis, a largo viene ancora uno stoico commando, Corvo Nero Fonte vince su Commando. Al terzo posto il numero 9 di Commento Luis, da segnalare che il numero 2 di commando è stato squalificato nelle fasi iniziali. 2, 33, 1, 16,5 per Corvo Nero Fonte, che vince facile con Niro Vassallo. Il training è quello di Franco Puccio, i colori sono di Vassallo Giancarlo. Al secondo posto il 9 di Commento Luis, al terzo posto il 12 di Caliopetrio.